Ciao a tutti, io sono Luca, io sono Claudio, siamo qui da Baseline dal 2009, se non ho capito un basso Lo facciamo per voi No 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 no, oggi veniamo a voi per ricordarvi, Brighella che non siete altro, che c'è una promozione in corso E' vero Vi ricordate l'abbiamo detto nella live che abbiamo fatto, ve ne abbiamo parlato E adesso vi facciamo vedere anche qualcosina, intanzitutto per ricordarvi che c'è la promozione E vai Come fare per vedere cosa c'è in promozione, cliccate il link che c'è sotto, vi porterà a tutte le promozioni Tenetelo d'occhio perché mi faceva notare Claudio che aggiorniamo Certo, non sono ferme le promozioni, si muovono Alcune cose vengono messe in promozione, altre non sono più in promozione, altre vengono vendute, come è già successo Le mettiamo e le togliamo così a casa Così, non c'è niente di certo nella vita, benché meno nelle promozioni Però ad esempio potesse approfittare per prendere una cosa tipo questa Tipo questo qua che è uno Schecter Riot 5 5 perché ha 5 corde Riot perché ha la forma del Riot Che è fatta così Ribelle E' anche un ribelle, un ribelle senza causa oppure con una causa in corso Tipo? Tipo che passa da 1199 a 999 Urca E' un risparmietto mica da ridere, direte voi Infatti avete ragione Questo qua in particolare è uno strumento Nectru Scala lunga 35 pollici Corpo in mogano Tastiere in palissandro Visto come te l'ho girato Pick up Pick up EMG HZ Quindi pick up passivi con elettronica attiva, due vie con basse alte E' proprio un bel bassettino E' proprio molto molto figo E in più ha anche il top in acero fiammato E per dire, potresti abbinarlo Per dire, adesso non è che voglio dire Ha una testata No, Angio Però in questo caso, ad esempio, ha un Arche TX600 Che passa da 4,49 a 3,99 Pensa un po' te Per dire Testata Finale digitale Prevalvolare 600 watt su 4 ohm E proviamo a sentire un po' come suona tutto insieme Tenendo tutto flat Giusto una puntina di compressione Vediamo un po' come suona Vai Sentiamo Un po' come suona Sì, comprimo un po' Direi che suona piuttosto bene Poi ovviamente essendo appunto a scala un pochino più lunga Lavora molto bene anche in situazioni tipo queste Nella quale vi abbassate tutte l'intonazione E fate i tamari come piace a noi Vai di gente Sì, sì, perché? Buongiorno! Grazie mille Direi che ci piace abbastanza Questo è uno strumento molto molto bello Ce ne abbiamo qualcuno Quindi potete venire a provare qui in negozio E potete approfittare della promozione finché dura Perché non è che dura indefinitamente Dura finché dura Chi lo sa Magari domani non c'è più Bisogna essere pronti Reattivi E non stare addormentati davanti al computer No Sempre sul chi vive Con riflessi D'aquila Soprattutto Potete ovviamente poi acquistare tutto Sull'e-commerce E basta che cliccate sul linkino Sia quello dell'offerta che quello diretto che mettiamo E potete acquistare sia lo Schechter che per dire questa Per dire Per dire Mi piace quando dici per dire Per dire Perché non è che stiamo forzando nessuno Non è che siamo vostra madre Non sono tua madre Al momento no No al momento no Non lo scopo mai sapere Però al momento no Chissà cosa succede nella vita Si può vedere anche la maniglia Che mi piace un sacco Della testata Ah della testata Sì Guarda Questa qua voi la prendete E la portate così Vedi come cartella di scuola Adesso la metto giù perché ero messo in una posizione scomodissima Però c'è la maniglia Però c'è la maniglia E quindi ve la potete comprare e tornare a casa Facendo 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 A volare Sappiate che se si rompe Perché la fate girare così Sbattata da qualche parte È colpa di Luca Sì È colpa A quanto pare A quanto pare È colpa mia Quindi Cliccate sui linkini Venite qui in negozio Comprate che ci sono un sacco di belle promozioni E ci vediamo al prossimo video Magari ne facciamo un altro Magari no Non si sa Ma no Come vi ho detto Così È stemporanea Ci vediamo Shuffle Grazie mille a tutti A presto Ciao Ti lascio suonare un po' Perché mi piace L'inquadratura Ok Grazie mille a tutti 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 Grazie mille a tutti